L'aumento esponenziale dei contagi da coronavirus mette a rischio la rete dell'emergenza. Una sola ambulanza a Termoli non è sufficiente a far fronte a tutte le richieste, considerato che lo stesso mezzo è utilizzato anche per il trasporto dei pazienti covid dalla costa al Cardarelli. Il gruppo politico Termoli Bene Comune Rete della Sinistra torna a sollecitare il sindaco Francesco Roberti e i vertici ASREM sulle carenze del servizio sanitario Basso Molisano e sulla mancata attivazione del centro covid dall'Arino, chiesto dai comitati e da una petizione firmata da oltre 100 sindaci del Molise. Ora il virus fa passi da gigante, il reparto di malattie infettive a Campobasso è quasi saturo, scrive nella nota Termoli Bene Comune, e anche sul fronte strutture private arrivano notizie di turni massacranti e di casi in aumento. Chiediamo per l'ennesima volta al sindaco di Termoli un'azione decisa, faccia finalmente sentire la sua voce, è il tutore della salute pubblica, responsabilità che non può essere disattesa, in regione affinità politica di schieramento e soprattutto rappresenta la comunità più grande dopo il capoluogo regionale, mortificata da un ventennio di scellerato svuotamento del suo ospedale. O ritiene che sia giusto per Termoli disporre di una sola ambulanza di 118, la stessa dotazione di Boiano fanno notare che conta 8.000 abitanti? Sulla stessa scia anche il dottor Giancarlo Totaro, patologo clinico e sindacalista a FIMC 118, che chiede di aprire urgentemente una sorta di covid hotel all'Arino, con le cure di media e bassa intensità in aggiunta al centro covid in allestimento a Campobasso. La politica del basso molise non molli e faccia qualcosa di eclatante per convincere chi di dovere ad attivare con urgenza posti letto dotati di erogatori di ossigeno al vietri per i pazienti meno gravi ma bisognosi di cure, ha concluso Totaro.